grazie grazie paolo buongiorno a tutti io sto ecco mettendo la presentazione spero che sia visibile ringrazio per questo invito naturalmente l'argomento come abbiamo già visto una prima relazione di estrema attualità e paolo ti sarò grato se mi vorrei segnalare quando mancheranno due tre minuti alla conclusione in modo da rimanere rigorosamente nel tempo assegnato bene il non comit è una questa se ne parla moltissimo ormai da qualche mese e vediamo che l'organizzazione mondiale sanità eravamo a gennaio di quest'anno aveva iniziato proprio a definire questa questa diciamo nuova entità come una condizione emergente delle conseguenze di covi 19 dove post covit sindrome o long covit venivano utilizzati come termini anche intercambiabili direi ma con ancora necessità di una migliore definizione sia da un punto di vista terminologico che clinico nello stesso tempo le il gruppo delle nice britanniche all'interno di una guideline che comparsa più o meno in tempo corrispondente aveva dato queste prima differenziazione di definizione parlando di long covit come quella descrizione di segni e sintomi che seguono la fase acuta della malattia nella fase di sintomaticità nelle prime 12 settimane oppure come vera e propria sindrome post covit da 12 settimane in poi e dandoci come in quel momento la diciamo l'identificazione della sindrome post covit come quell'insieme di sintomi che sono conseguenti all'infezione che si protaggono per 12 settimane ma che non sono spiegati in maniera specifica secondo quelle che possano essere l'identificazione delle della patogenesi e dei meccanismi di sviluppo di di questa entità appunto di questa sindrome che deve essere definita bene questo apparentemente quasi inestricabile descrizione ma ci rappresenta con una figura molto efficace che non andiamo naturalmente ad analizzare in maniera descrittiva e analitica ma questi gli effetti a lungo termine di covit 19 se ne parla tanto quindi ai colleghi presenti non non sto a dettagliare alcuni argomenti che poi affronterò ma quello che certamente la figura in maniera molto così molto descrittiva ed efficace ci riporta e come le conseguenze da un punto di vista sia dei sintomi sia anche di conseguenze di tipo biologico sono veramente distribuite in ogni dove e questo ci spiega la complessità anche dell'interpretazione sia da un punto di vista dicevo clinico ma anche dal punto di vista della fisiopatologia di quello che sostiene gli esiti di questa malattia naturalmente ci sono state già negli anni nei mesi scorsi vari tentativi di di mettere in relazione almeno la la persistenza dei sintomi con le caratteristiche della malattia nella fase acuta il gruppo della della malattia infettiva di careggi insieme agli altri che si sono occupati si stanno occupando del codico e 19 in una analisi preliminare avevano già osservato che la persistenza dei sintomi non ha una relazione documentata almeno in quei pazienti che erano stati valutati in quel momento con la severità di presentazione la fase acuta con il ricovero in terapia intensiva o la durata dell'ospedalizzazione e questo la dice lunga già nel nel renderci in qualche modo difficile almeno immediatamente la comprensione delle relazioni non solo ma come vediamo anche in altri lavori che sono stati condotti seppur in maniera sempre pilota perché casistiche non estremamente vaste ma analizzate correttamente anche che la persistenza di sintomi a distanza tra l'altro non non è nemmeno in relazione al setting dove il paziente ha condotto la fase acuta della malattia cioè tra pazienti ospedalizzati pazienti curati a domicilio non c'è differenza in coloro che hanno o non hanno la persistenza dei sintomi a distanza e altre osservazioni anche queste non definitive perché avranno bisogno di conferme su casistiche più importanti ma dicono che anche in questo caso la presenza dei sintomi come vedete non è in relazione non è associata alla gravità della malattia della fase acuta in particolare neppure con le alterazioni radiologiche polmonari essendo in questo caso in questo studio prese come come elemento di comparazione e l'ultimo che è stato pubblicato proprio pochi giorni fa il primo lavoro che arriva a una estensione di follow up molto lungo dice che in generale i pazienti recuperano coloro che hanno delle dei sintomi soprattutto dei sintomi respiratori che sono una quota parte non estremamente rilevante ma presente quindi soprattutto con il sintomo di splena effettivamente hanno la documentazione di esiti polmonari radiologici ma l'unica cosa che possono concludere gli autori è una raccomandazione a definire quelli che dovranno essere i follow up successivi di questi pazienti e questo lavoro pubblicato sulla rivista di grandissimo prestigio come l'anset è riferito soltanto a 83 casi bene io recupero è fatto piacere la l'anticipazione è stata data in una slide precedente perché da questa rassegna che è comparsa adesso ho pensato proprio per favorire anche una riflessione e un approfondimento per i colleghi di riportare alcuni elementi della correlazione clinica fisipatologica che oggi sono in corso di studio e sono noti proprio per quello riguarda la sindrome da cobit nella fase post acuta prendendo proprio in esame questa correlazione con la numerosa sequenza di sintomi che abbiamo già visto prima e che si protrae ovviamente per mesi fino ai sei mesi e forse anche e forse anche oltre e ho fatto ho cercato un tentativo di mettere insieme di isolare alcuni punti che credo possano essere utili cioè da un punto di vista delle sequen delle sequen mi raccomando qui non stiamo parlando della fase acuta di mattina ma passiamo a lungo termine da un punto di vista epidemiologico e clinico ci sono la i deficit di diffusione e le fibrosi sono più importanti nei pazienti che sono stati trattati con ossigeno ad alti flussi o con niv e che a sei mesi c'è un pattern polmonare anomalo naturalmente non entriamo qui nel dettaglio di quale sia ma comunque c'è una quota e a sei mesi una persona su quattro comunque è al di sotto della mediana attesa di percorrenza del test del cammino perché questo avviene probabilmente vi riporto tutte la in generale indicazioni fisiopatologiche spesso sono hanno un punto interrogativo fra parentesi in fondo per quanto riguarda la rassegna ma dovuta a distruzione dell'interfaccia endotelio epiteriale dal danno immunomediato da un inferno da un'infammazione perivascolare protratta e dagli esiti e questo sembra molto rilevante anche degli ultimi studi che vengono fatti la fase acuta delle microtrombosi vascolari che si sono realizzate a livello del circo del microciclo polmonare a livello cardiovascolare a distanza di tempo ci sono un 10 per cento di soggetti che hanno ancora dolore toracico cardiopalmo si sviluppano ma in misura relativamente ridotta ma presenti cardiomepatia da stress e è rilevata la frequenza di tachicardia sia come tachicardia sinusale di base o anche un riflesso esagerato al di tachicardico all'ortostatismo come meccanismi di nuovo l'invasione di la rediretta la fibrosi che ne deriva l'alterazione della regolazione dei recettori ac2 e le aritmie spesso conseguenti a questa persistente aumentato tono adrenergico e l'aumento in circolo delle citochine le altre prevalenti sono ematologiche a distanza di tempo sempre c'è un circo per cento circa di crisi di tromboembolici venosi e una al di sotto del 5 per cento di eventi emorragici con meccanismi che possono essere determinati dal danno endoteliale dall'attivazione dal complemento delle piastrine e della circolazione delle citochine però infiammatorie molto direi composito è quello delle alterazioni neurologiche psichiatriche perché da un punto di vista epidemiologico e clinico abbiamo molti dei sintomi che si conoscono la cefalea la difficoltà di concentrazione quella che viene detta non la nebbia i deficit di memoria di comprensione la depressione l'ansia ma da un punto di vista fisiopatologico molti studi che stanno cercando di approfondire sia per le cause alcune documentate e ovviamente in alcuni casi come le trombosi microvascolari o neurodegenerazioni a specifiche ma scusate quelli che sono proposti come l'interazione tra il virus e la materia ematoencefalica e a livello ad esempio in relazione ad alcuni sintomi l'invasione virale degli spazi extracellulari dell'epitelio olfattivo non vado a descrivere per necessità di tempo anche le varie conseguenze e le varie relazioni a livello renale endocrinologico gastrointestinale dermatologico ma mi consenso soltanto su alcuni aspetti che magari si possono essere così più di interesse per alcuni colleghi ad esempio per quanto riguarda le alterazioni tiroidee che non sono rare e anche a settimane dopo il termine dei sintomi o la comparsa tiroidiche autoimmuni per per le quali la fisiopatologia richiama o l'attivazione del sistema immunitario oppure anche un danno iatrogeno dai trattamenti alla fase acuta e poi caratteristico perché come sintomo viene riportato molto frequentemente la perdita dei capelli quindi dall'insieme di tutte queste queste correlazioni clinico fisiopatologiche ne deriva la necessità dice sempre questa stessa rassegna di una collaborazione multidisciplinare per andare a definire il la condizione andare a studiare il paziente nella nel corso della sindrome post comit riporto rapidamente quello che viene fatto a careggi questo schema che vi fa vedere il percorso di follow up che è stato realizzato studiato grazie devo dire alla alla determinazione che ha avuto la lucia turco nel suo ruolo di di direttore sanitario questo lavoro è stato fatto iniziato un anno fa vedete iniziamo con a quattro settimane intervista telefonica con questionario strutturato visita infettivologica poi se ci sono condizioni di stabilità il paziente viene avviato immediatamente ovviamente ad approfondimenti altrimenti si passa alla valutazione primo livello che è un po il core di tutta la valutazione di follow up e comprende tutto ciò che voi vedete riportato infettivologico premologico cardiologico sulla parte emato chimica immunologica coagulativa infettivologica complessa radiologica poi alcune valutazioni sul piano cognitivo piano psicologico di capacità funzionale e successivamente se il paziente è stabile si conclude il follow up e clinico altrimenti si va a valutazioni ulteriori e anche alla collaborazione di altri settori specialistici che sono neurologia cicatria otorino pulistica eccetera oppure ulteriori indagini se la stabilità è raggiunta si va solo poi a ripetere interviste telefoniche considerando problemi risolti altrimenti no se no si passa in indagini clinico strumentali ma soprattutto si va a percorsi dedicati che potranno essere presa in carico in funzione delle conseguenze o della persistenza dell'aggravamento delle comorbilità questi sono alcuni dati e che sono le ultime cose che vi presento sono riferite a mille poco più di mille pazienti valutati al primo mese dopo la dimissione vedete l'età media della nostra casistica valutata non è l'intera casistica di dimessi parlo dopo ricovero perché ormai siamo oltre 1600 1700 non solo me quelli che però sono stati rivalutati 65 anni età media 58 per cento di maschi e la comorbilità rilevate una o più comorbilità di inoltre il 70 per cento e questa è la distribuzione potete vedere per decadi di età che ci rappresenta la realtà è che non sorprende nemmeno rispetto ad altre ovviamente descrizioni il questionario che vengono fatti a tutti i pazienti a un mese alla missione è un questionario strutturato vi riporto soltanto alcuni dati perché credo possano essere indicativi questi i sintomi prevalenti nel nel campione di mille pazienti vedete l'astenia o la fatica la dispnea l'insonnia la paura quelli più rappresentati ma e queste sono le ultime che vi che il che presento sono dati questi originali che ora stiamo anche completando l'elaborazione per così per proporli per una pubblicazione scientifica perché perché sono 183 pazienti vedete che sono stati per i quali sono stati rilevati i sintomi a 13 69 12 mesi della dimissione questa è una sequenza molto lunga e che cosa ci dice avendo categorizzato appunto questi questi sintomi e alcuni raggruppati per per omogeneità ci dice questo che ci sono soprattutto come noi possiamo vedere fino a nove mesi che è la la barretta di un celeste un pochino più chiaro dopo una la riduzione che inevitabilmente fortunatamente c'è dopo dopo i ai ai tre mesi però c'è persistenza di sintomi e vediamo la dispnea da sforzo quanto è persistente persistono anche i disturbi del sonno e andando avanti noi possiamo osservare se da una parte le alterazioni del gusto dell'olfatto le stesse palpitazioni si riducono di molto con il passare dei dei mesi ce ne sono altre quali appunto il brain foggeri la confusione mentale la difficoltà alla concentrazione invece che ha comunque una persistenza non irrilevante come questa condizione che in particolare nei primi sei mesi cioè la paura di quello che che è avvenuto le conseguenze probabilmente anche del dello stress determinato post traumatico eccetera rimane e queste ovviamente a parte la il significato di avere misurato in qualche modo questi questi sintomi che certo sono sintomi riferiti ma sono sintomi analizzati mi dicevo con questionario strutturato però ci porta ci riporta a quella complessità che ci troviamo nel nella sindrome post covid concludo non facendo un come dire un riassunto di quello che vi ho proposto ma utilizzando questa conclusione che c'è proprio nelle in questa linea guida che è stata pubblicata da nice perché il panel proprio dice ci sono una serie di interrogativi aperti e mi sembra che questo riassunto ci possa anche molto richiamare quanto veniva detto con i propositi anche del lavoro dell'arse e quindi di tutto il territorio di tutti i professionisti eh della delle varie strutture sanitarie della Toscana perché per quanto riguarda la sindrome post covid dovremo analizzare qual è la storia naturale e quali sono prevalenze e incidenza vista la difficoltà anche per inquadrare già la sindrome e quali sono i fattori che influenzano il rischio di svilupparla questo certamente ancora come ho cercato anche di accennarvi seppur brevemente è un tema eh di di grosso dibattito e che sta interessando centri di ricerca in tutto il mondo e qual è il sintomo che rende necessario un intervento specialistico perché non tutti questi sintomi poi sono correlati a una possibilità o una necessità di dover intervenire ma alcuni lo sono e quali saranno gli esami e quali sono le caratteristiche cliniche che sono i marcatori prognostici questa ancora non lo sappiamo non sappiamo quale sarà l'evoluzione della sindrome post covid e quindi ritengo se posso esprimere questa opinione del tutto personale ma che ci faremo i conti in futuro con appunto questi gli esiti del covid-19 a lungo termine perché con questa sintomi manterranno le eh delle conseguenze che in questo momento non siamo in grado di prevedere non abbiamo neppure in questo momento la percezione di quella che sia la reale efficacia degli interventi che vengono fatti e se ci sono delle differenze per sesso per età e per stato socio economico io sono al termine qual è l'efficacia clinica dei modelli di riabilitazione sugli esiti si raccomanda e si cerca di intervenire dal punto di vista riabilitativo ma ancora non abbiamo una correlazione così evidente con gli esiti poi di risoluzione della della sindrome e poi quali siano gli strumenti convalidati per fare un uno screening appropriato della sindrome post covid bene con questo concluso e vi ringrazio per avermi seguito grazie mille francesco davvero molto interessante rispondo rapidissimamente e direttamente io a due domande sulla relazione precedente per brevità rispondo io chiarugi osserva che parkinson aumenta il rischio ma parkinson non figura nella tabella delle estremamente vulnerabili vero sì ma molte condizioni croniche non sono classificate come estremamente vulnerabili tutta anche tutte quelle che aumentano il rischio che chi chiede se nello studio dove stiamo valutando l'impatto del covid del diabete sugli esiti del diabete si sta è stato preso a considerazione anche il controllo glicemico non ancora lo faremo in futuro davvero molto interessante la presentazione di francesco una domanda al volo quindi allora innanzitutto mi sembra tu abbia concluso rispondendo sì alla domanda del titolo una nuova malattia cronica nel senso c'è la possibilità davvero che ci troveremo di fronte a una cronicizzazione di alcuni esiti una domanda però soprattutto per quanto riguarda gli esiti persistenti a 12 mesi sono in corso studi di tipo caso controllo per valutare davvero quanto questi sintomi siano correlati all'infezione e non alla situazione generale mi riferisco in particolare ad alcuni sintomi abbastanza generali tipo l'ansia la paura che forse possono essere correlati anche alla condizione generale si concordo con questa tua osservazione sicuramente studi ci sono ma studi ancora che abbiano raggiunto una anche un'estensione temporale no quella di un anno perché perlomeno in questo momento ma è quella è già che ci rappresenta un punto di riferimento come hai visto questo lavoro di un gruppo cinese che questo non lo dico in termini come diminutivi ma sono i primi che hanno fatto le osservazioni i primi che hanno pubblicato su rilevazioni analisi a 12 mesi 80 pazienti quindi possiamo dire che che sicuramente ci sono queste queste esperienze che tu richiami ma ancora da un punto di vista scientifico non siamo in grado di trarre nessuna conclusione perché non abbiamo i dati almeno a mia conoscenza una domanda importante appena arrivata santoro chiede quale chi chi prenderà in carico questi pazienti parliamo parliamo quindi del della ipotetica speriamo di norma sindrome post covid sì bella domanda bella domanda questo io chiaramente non sono io che posso dare questa risposta quindi magari qualcun altro meglio di me anche di coloro che sono in questo momento collegati non credo che ci sia una risposta però non voglio togliere ovviamente possibilità di rispondere dal mio punto di vista quello che stiamo facendo ma lo facciamo in maniera diciamo non così strutturata ma per dare risposte assistenziali a pazienti che ne hanno bisogno inseriamo i pazienti nei percorsi di diciamo di follow up anche protratto nei settori nei quali vengono seguite quelle condizioni di patologia o di sintomatologia e sono più pertinenti quindi se sono polmonari della patologie e polmonari cardiologiche nel settore cardiologico e così via però naturalmente questo non risponde alla domanda ecco ne sono ben consapevole va beh cercheremo di rispondere con un po più di tempo grazie mille grazie mille francesco